Pochi giorni al ballottaggio per il nuovo sindaco di Silvi, Comignani si riparte da zero. Contentissimi del primo esito delle urne, ci speravamo, quindi abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Adesso diritti al traguardo finale, quindi invito la cittadinanza a continuarci a dare fiducia, a credere in questo progetto che è stato vincente e il fatto di aver aggregato nuove forze civiche attorno alla nostra coalizione è stato premiante. Importante è rivolgersi probabilmente a chi non è andato, che non si è recato alle urne nel primo turno, c'è stato un calo di votanti a Silvi piuttosto rilevante. Sì, rispetto alle amministrative di quattro anni fa quasi più di mille persone non sono venute a votare. Io direi però innanzitutto di riportare a votare quelli che già ci hanno dato fiducia e lavorare anche su quelle persone che non sono venute a votare. Si parla tanto di apparentamenti quando ci sono i ballottaggi, ma al di là di questo Comignani a chi si rivolge anche per cercare di ottenere il risultato migliore e dunque tornare ad essere il sindaco di questa città? Allora, da un'attenta analisi di ciò che è successo bisogna portare in evidenza l'ottimo risultato che Simona Stolfi ha ottenuto. Così come io leggo anche positivo il risultato di Antonio Del Vecchio perché il coraggio che ha avuto di questa sfida secondo me è stato premiante e non peraltro che si è aggregato un gruppo di giovani e quando i giovani fanno politica è sempre importante, è un momento di crescita. Quindi noi dobbiamo partire da cosa? Dal fatto che la Stolfi più volte ha ribadito che seguirà la linea del Movimento 5 Stelle che non farà apparentamenti, ma noi non possiamo non tener conto degli argomenti importanti che sono stati discussi durante questa campagna elettorale. Quindi, come ho già avuto modo di dire, faremo tesoro di alcuni suggerimenti della Stolfi che porteremo avanti durante la nostra amministrazione se torneremo ad amministrare.